Dai vaccini alla necessità di fare a rete, all'esigenza di gestire la grande problematica relativa all'autismo adulto con il progetto del Dopo di Noi, ovvero uno sviluppo logico del centro Aias più che mai consapevole di volere realizzare anche una struttura di cura e assistenza per soggetti autistici e diversamente abili in età adulta. Argomenti trattati sabato scorso in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Lo stesso giorno Laias ha celebrato il suo quarantesimo compleanno. Accenderò una candela perché la luce di Dio possa sempre vegliare su di loro e poi dare calore perché la luce è pure calore per far sì che questa patologia venga trattata sempre con amore da tutti, non solo dai nostri operatori ma dal contesto intero. L'autismo esiste da più di 60 anni, la prima volta che fu coniato questo termine fu 60 anni fa e questo merito si deve ad uno scienziato, Leo Canner. Da quel momento sono cambiate molte cose. Dobbiamo continuare a lavorare, a costruire tavoli tecnici, a confrontarci e mettere in sinergia tutte le forze che questo territorio ha. Come si può intervenire subito, immediatamente? Beh, innanzitutto come già stiamo intervenendo da parte dell'ASP con l'attivazione di centri diurni sia a Caltanissetta che a Gela per l'assistenza dei soggetti autistici. Da parte sempre della mia azienda mettendo in campo qui questa azione sinergica con l'associazione AIAS rispetto a tutto quello che riguarda l'assistenza dei soggetti autistici. Quindi stiamo trovando la giusta integrazione per poter portare avanti un'assistenza di qualità e mirata ai bisogni delle famiglie e dei soggetti. Durante l'iniziativa il sindaco Domenico Mersinese ha confermato la volontà dell'amministrazione comunale di volere sbloccare un iter autorizzativo rimasto fermo per anni. Si tratta della nascita di una struttura che garantirà servizi vitali come la pet therapy, la piscina e l'ippoterapia. I bambini autistici sono bambini come tutti gli altri, fanno parte della società, si trovano nelle scuole, si trovano nelle normali attività rutinarie della giornata e quindi anche noi che non abbiamo un figlio autistico, che non abbiamo parenti autistici, però dobbiamo sapere come gestirli, perché questi bambini saputi gestire bene sono bambini che possono stare benissimo tra di noi. Questi bambini non possono essere eseguiti soltanto all'interno di un centro di riabilitazione, ecco, più si conosce e significa più la famiglia lo conosce, più la scuola, l'insegnante, tutte le varie strutture, è chiaro che può essere favorita una maggiore integrazione. Lo scopo di noi medici è proprio quello di dire a tutti i genitori che più le diagnosi sono precoci, sicuramente un futuro migliore si potrà garantire a questi bambini.